bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi un sacco di novità per quello che riguarda le ultime 24 ore delle news di fortnite nel video di oggi parleremo di alcune cose davvero incredibili e sentiremo un bel po di file audio alcuni li hanno aggiunti proprio ieri e fanno riferimento a qualcosa che già avevamo visto nel capitolo 1 di fortnite ma parliamo anche di un modo super fast che arriverà tra poco per fare un po di punti esperienza extra e di tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno anche per mettere un like a questo video non vi dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un tweet ufficiale direttamente da fortnite status we had made some adjustments to shotgun hanno fatto ragazzi delle migliorie ai fucili a pompa innanzitutto hanno fatto degli aggiornamenti per il dragon's breath quindi il soffio del drago se non fucili a pompa fa un pochettino più male in poche parole e invece per quanto riguarda il charge hanno aumentato la capacità nel caricatore la velocità di caricamento e il danno quindi ragazzi tanta roba poter riprendere in considerazione anche il charge in questa season che è stato un po abbandonato praticamente dalla maggior parte dei giocatori perché è troppo sgravato rispetto al tac se ti entrano prepotentemente hanno molti più colpi a disposizione rispetto alla possibilità appunto di washottarli per dirvi con il charge quindi tanta tanta roba per questo aggiustamento e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arrivano delle immagini molto curiose come vedete sembrerebbe che nei prossimi giorni sia già in arrivo la skin di halo ne abbiamo parlato nel video di due giorni fa o di ieri tutto un set dedicato con questo piccolo crossover tra fortnite e halo che non sarà l'unico perché ce ne saranno tanti altri di riferimenti abbiamo visto anche quello di god of war appunto con kratos la skin dovrebbe costare 1500 e arrivare anche il pacchetto completo con skin e mot deltaplano e piccone non so bene il prezzo del pacchetto secondo me se ha sui 3000 vbucks se proprio volete una mia idea per tutti gli appassionati di halo o per i collezionisti di skin un ottimo un ottimo modo per poterla inserire nel proprio armadietto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece arriva una bella notizia per tutti i possessori di ps5 ce lo dicono direttamente quelli della official police playstation account quindi l'account ufficiale su twitter polacco di playstation sembrerebbe anzi è confermato che tutti quelli che hanno la ps5 a a partire dal 10 dicembre otterranno gratuitamente la variante di kratos che molto probabilmente come vedete avrà dei riferimenti ai colori della ps5 e sembrerebbe anche forse qualche outfit extra per quanto riguarda appunto la skin stessa una bella cosa ovviamente che non tutti potranno prendere una roba super esclusiva che diventerà sicuramente ricercata nel corso degli anni e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una bellissima iniziativa ve ne avevo già parlato tantissimo tempo fa ragazzi di questa iniziativa che hanno deciso di fare quelli di fortnite con i maggiori esponenti dei giocatori di baseball americani giocheranno il 6 e il 7 dicembre quindi oggi e domani troverete ovviamente sulla sulla pagina youtube del della espn la live in diretta di questo torneo dove si sfideranno appunto i maggiori esponenti del baseball che gareggeranno per vincere un monte premi di 300 mila dollari che verrà ovviamente completamente dato tutto in beneficenza quindi una bellissima iniziativa e forse dico forse potremmo rivedere magari la skin del baseball oggi o domani questo video è registrato prima dell'arrivo dello shop quindi magari ci ho preso dategli un'occhiatina che non si sa mai andiamo avanti a guardare il prossimo argomento di oggi perché si cominciano a scoprire delle cose davvero molto curiose e questa è la prima di tutte sono stati aggiunti ieri pomeriggio dei file audio relativi ai tunnel che già avevamo visto nella season 9 penso proprio di sì del capitolo 1 voglio ovviamente farveli sentire ce ne sarebbero ovviamente molti molti altri ma quelli di cui vi stavo parlando sono proprio i tubi quelli che creavano un percorso dove il giocatore poteva buttarsi dentro e andare molto più velocemente questo vorrebbe secondo me dire e confermare piano piano il ritorno della vecchia mappa pezzo per pezzo non sappiamo ovviamente dove verranno fatti riuscire i tunnel una volta erano intorno alla nuova pinnacoli tilted town se non ricordo male il nome chissà quando arriveranno e dove arriveranno e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è un argomento davvero super super top ci sono delle modifiche allo zero point ragazzi voglio già farvi vedere questa immagine che è molto più chiara il 4 dicembre l'immagine proprio sotto di me inquadra il punto zero come tutti siamo abituati a vederlo ma forse non tutti si sono accorti che il 5 dicembre quindi ieri immagine di destra sono apparse intorno al nucleo dello zero point delle cose che prima non c'erano come vedete quelle palline bianche vengono chiamate in inglese crack io non so bene adesso perché li chiamano così e questo è una figata perché vorrebbe dire che molto probabilmente lo zero point cambierà e potrebbe anche succedere qualcosa o più cose durante la season insomma ragazzi terrò sotto controllo quello che vuole fare lo zero point ed ep games e ovviamente ve lo farò vedere giorno per giorno nei video news io per oggi vi ringrazio tanto per avere guardato le news del giorno ma non vi dimenticate che dalle 8 il live su twitch oggi che è domenica c'è la live dedicata al vintage quindi i giochi migliori degli anni 90 non dimenticate però il like a questo video se volete un commentino mi aiuta sicuramente a portarlo nei consigliati noi ci vediamo alle 8 il live su twitch ciao 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 ciao